Ciao! Ciao a tutti, amore mio! Va bene! Wow! Questa è stata la zona del pescino! 6,9,6 metri attitudini Eeeh Il ciclo è veramente ruinato questo momento Wow, look at this! Wow, how cool is that? Here, it is recommended to not use the brakes too much, otherwise overheating. All people with their bikes. Let's get it! The turn number 8, without formation and altitude. Sì, saluto a tutti i miei ciclisti! Il cicliste è stato fatto, certo? Grazie a tutti. Vamo, si vien si va a qui. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Corsa! Oh! Over there! Whee! Entra in St. James! Bravo! Foto Stelvio! 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 Foto Stelvio!